Musica Riuso dei sottotetti, approvata la modifica La stazione Torino Ceres tornerà a vivere We run for women, corriamo per fermare i femminicidi Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati Approvata la modifica per il riuso dei sottotetti La legge permette di uscire dal vuoto normativo che si era creato dopo la sentenza della Corte Costituzionale La legge di modifica sul riuso del suolo e la riqualificazione degli edifici è stata approvata a maggioranza nella seduta legislativa delle commissioni congiunte urbanistica e bilancio Presidenti Mauro Fava e Roberto Ravello In particolare il testo si occupa dei sottotetti e delle cosiddette variazioni essenziali al progetto approvato in seguito alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della legge regionale 7 del 2022 bloccando di fatto almeno 4.000 pratiche urbanistiche nei comuni Questa legge permette di uscire dal vuoto normativo creatosi dopo la sentenza della Corte Costituzionale del luglio scorso ha commentato l'assessore all'urbanistica Marco Gallo Abbiamo lavorato insieme all'Assemblea regionale, al territorio, alle associazioni e agli ordini professionali per sbloccare migliaia di pratiche edilizie rimaste ferme in linea con le indicazioni date dalla Corte Costituzionale Il punto focale della nuova normativa è legato al recupero dei sottotetti esso è consentito, purché esistente e legittimo, alla data del 31 dicembre 2023 Per i sottotetti realizzati dal 1 gennaio 2024 invece il recupero può avvenire solo seguendo le indicazioni del Piano Regolatore Generale Paolo Ruzzo, la Forza Italia, relatore di maggioranza del provvedimento ha messo l'accento sulla necessità di sanare la situazione attuale L'articolo cassato dalla Corte Costituzionale adesso non c'è più quindi bisogna trovare una soluzione perché ci sono migliaia di pratiche bloccate in Piemonte è necessario aprire un confronto su tutta la materia questa legge permette di utilizzare i volumi esistenti al 100% per risparmiare suolo Daniele Valle, Partito Democratico, relatore di opposizione ha ricostruito la complessa storia della legge sul riuso del suolo nella scorsa consigliatura la legge è stata stravolta ed ha ampliato molto le maglie poi il testo approvato è stato impugnato dal governo e alcuni articoli sono stati modificati altri no, sarebbe stato meglio tornare alla legge 16 del 2018 che invece funzionava La stazione Torino Ceres tornerà a vivere in Commissione Trasporti l'assessore Vignale ed RFI hanno esposto i progetti per il Piemonte Nel piano della regione di valorizzazione dei beni pubblici, ha spiegato l'assessore Gianluca Vignale abbiamo 1.800.000 euro per la stazione Porta Milano di Torino, nota come Torino Ceres questo diventerà il primo intervento con il quale restituire alla collettività un luogo i cui spazi saranno dedicati alla cultura, ad attività associativa e servizi La volontà della giunta regionale è di rivitalizzare e riqualificare questi beni per restituirli alla collettività L'intervento dell'assessore Vignale durante la mattinata di lavori presieduti da Mauro Fava dedicata dalla seconda commissione al trasporto ferroviario si è iniziato in seduta congiunta con la prima presidente Roberto Ravello per l'informativa dell'assessore Vignale sugli immobili ferroviari dismessi e successivamente la seconda commissione ha tenuto un'audizione con RFI e Trenitalia sulla realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e il servizio di trasporto ferroviario L'assessore Vignale ha illustrato la situazione degli impianti e infrastrutture delle linee Torino Ceres e Canavesana trasferite dal demanio statale che si può suddividere in due tipologie beni di proprietà regionale concessi a RFI per consentire l'esercizio ferroviario e beni come le stazioni ferroviarie con materiali, terreni e fabbricati vari che non sono più utilizzati per il trasporto ferroviario e che dovrebbero essere riqualificati Nell'audizione con i gestori del servizio ferroviario la delegazione di RFI ha illustrato alla seconda commissione il piano per il territorio piemontese che prevede investimenti programmati per 30,6 miliardi di euro dei quali 18,8 già finanziati Lo scopo è il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria e il restyling delle stazioni e la sicurezza e il miglioramento tecnologico Trenitalia ha sottolineato che circolano 800 treni al giorno con 43 milioni di passeggeri all'anno e che è in atto un programma di rinnovamento della flotta che nel 2026 porterà l'anzianità media dei convogli a 6 o 7 anni L'audizione è stata molto costruttiva, ha affermato Fava perché ha evidenziato la necessità di confronto tra i consiglieri che sono le sentinelle del territorio e chi conduce il servizio sulla rete ferroviaria piemontese We run for women, coriamo per fermare i femminicidi Il Consiglio regionale è al fianco della Polizia di Stato e del CUS Torino in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne Un gesto concreto per dire no ai femminicidi e alle diverse forme di violenza nei confronti delle donne E' questo l'obiettivo di We run for women che animerà Torino domenica 24 novembre Un percorso di 5 km accessibile a tutti oppure di 10 km competitivo e non in cui si potrà correre o camminare con partenza da Piazza Solferino alle ore 9 Il Consiglio regionale è in campo contro la violenza di genere Vogliamo correre insieme alla Polizia di Stato in questa iniziativa e donare il ricavato di questa corsa di solidarietà e di sensibilizzazione a un progetto che si chiama SOS Orfani L'iniziativa è voluta dalla Questura di Torino sostenuta dal Consiglio regionale dalla regione Piemonte e dalla città di Torino e organizzata dal CUS Torino in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale Una iniziativa che vuole essere Coran Populi quindi in pratica è un'invocazione a partecipare sarà per chi vuole una gara, per chi vuole una camminata ma è un modo per mettere al centro Torino e le persone di Torino contro questo fenomeno Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al progetto SOS Sostegno Orfani Speciali che a Torino in Via Nota gestisce il primo spazio in Italia dedicato agli orfani e alle orfani di femminicidio Sono persone che hanno avuto un grosso trauma perché all'improvviso questi bambini, questi ragazzi questi adolescenti hanno perso in un unico momento sia il padre che la madre e molto spesso si colpevolizzano queste cose non si dimenticano ma si chiede di riprovare a vivere una quotidianità un po' più libera, un po' più serena Sempre nell'ambito delle iniziative organizzate in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne il 21 novembre al Palazzo della Luce di Torino alle ore 10 si terrà l'incontro Voci di Coraggio rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie superiori con un approccio dinamico e interattivo per favorire il dialogo e la partecipazione dei giovani oltre all'intervento di vari esperti sarà ospitata la testimonianza di un giovane vittima di violenza assistita È stata celebrata con una solenne cerimonia in Piazza Castello la ricorrenza del 4 novembre Il vicepresidente Domenico Ravetti ha rappresentato il Consiglio regionale del Piemonte alla cerimonia che si è svolta in Piazza Castello a Torino per la ricorrenza del 4 novembre giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate che ricorda la fine della prima guerra mondiale commemorando i caduti e l'armistizio di Villa Giusti è entrato in vigore il 4 novembre 1918 che consentì di portare a compimento il processo di unificazione nazionale con il ritorno dei territori di Trento e Trieste sotto la sovranità italiana presenti alla cerimonia anche numerosi consiglieri e consigliere È un momento molto complesso c'è bisogno di pace ma non basta questa frase bisogna dare forza alle relazioni internazionali a rendere meno conveniente fare la guerra perché questo è il punto e utilizzare l'intelligenza dell'umanità per trovare gli accordi tra popoli in conflitto Per questa edizione è tutto prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci